buongiorno e buon sabato mattina benvenuti a questa ultima rassegna stampa della settimana sono le 7 e 30 in punto noi abbiamo i giornali pronti ma guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi è sabato 7 marzo sante perpetua e felicità martiri il sole è sorto alle 6 e 34 e tramonterà alle 18 e 04 e quindi guardiamo le previsioni del tempo questa è la nostra stazione meteo vedete le temperature su fano sono decisamente più alte rispetto a quelle dei giorni scorsi e quindi anche la velocità del vento vedete è scesa a brezza tesa guardiamo le immagini della webcam webcam come vedete non c'è un gran sole però insomma l'immagine eloquente è quella che vediamo anche le previsioni che ci dà la protezione civile delle marche vediamo le previsioni per oggi il cielo è sereno o poco nuvoloso precipitazioni assenti e le temperature sono appunto stazionarie il mare comunque rimane ancora molto mosso vedete che però la simbologia è mista sole e nuvole anche per domenica direi che la tendenza è quella più o meno al bello vedete il sole la fa insomma da padrona rispetto alle nuvole infatti il cielo sereno poco nuvoloso precipitazioni assenti e temperature minime in lieve diminuzione però i venti sono deboli il mare rimane mosso per lunedì anche qui abbiamo cielo sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione e venti di brezza quindi ci avviamo verso una tre giorni insomma con un tempo abbastanza stabile però insomma il tempo è stato veramente inclemente nei giorni scorsi e quindi i giornali nella loro maggior parte fanno un po' la conta dei danni fanno vedere che cosa è successo e allora andiamo a vedere partiamo con le pagine del resto del Carlino di Fano vedete nel riquadro l'assessore Paolini bilancio maltempo quindi si tira appunto il bilancio danni però limitati ora la difesa della costa diventa la priorità l'assessore ringrazia i volontari e annuncia l'arrivo dei fondi regionali ancora rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino di Fano la difesa del territorio e la sensazione di sicurezza che questa viene data dagli operatori della sicurezza sarà ancora maggiore perché più uomini per la difesa servono e insomma servono mezzi anche per controllare e tutelare il territorio fratelli d'italia alleanza nazionale lancia una petizione e quindi dice più rispetto perché la destra annuncia troppi ritardi questa è la terza città delle marche servono interventi subito ultima pagina del resto del Carlino che vi mostriamo che vi facciamo vedere per quanto riguarda fanno l'interland siamo a mondolfo parliamo di avis donatori di sangue che crescono ma non c'è più il punto prelievo pubblico il paradosso è stato annunciato dall'avis nell'ultima assemblea quindi crescono crescono i donatori ma serve un punto che li accolga lavoro la cgl raddoppia la sua presenza nei cantieri ferretti andiamo a vedere i danni invece che sono stati procurati nella città di pesaro anche lì insomma seri e a farne le spese purtroppo il più delle volte sono proprio gli alberi secolari ora al via gli abbattimenti degli alberi per mettere in sicurezza naturalmente le persone visto quello che è successo anche a orbino oggi tocca al gelso secolare l'assessore dice è troppo pericoloso non potevamo fare altrimenti e c'è invece chi dal tempo e dal vento trae vantaggio vedete questo è un kitesurf che si diverte non poco e quindi la conta dei danni è iniziata e quindi insieme a questa le prime verifiche la provincia ha chiesto 4 milioni di euro per il foglia e qui vedete la furia e le mareggiate la furia del mare e allora cosa fare anche di quel pennacchio che si erge sul sul tetto del nuovo tribunale che serve per far convogliare la luce all'interno dell'atrio e ci si chiede appunto che cosa fare del pennacchio pericolante il comune ora chiama in causa i costruttori la soluzione più praticabile è quella di eliminarlo era un po l'elemento distintivo del del fabbricato insomma sembrava un cammino era sicuramente ciò che contraddistingueva quell'immagine allora storie di bilanci la cna e il sindacato volano gli stracci sia un po come dire ai ferri corti accuse sul mancato accordo bordoni dice agli stipendi più bassi tagliati soltanto 40 euro mensili ma la cgl e la will è polemica e dice noi volevamo invece superare le disparità retributive per evitare ulteriori fibrillazioni questa la loro posizione belvedere fogliense siamo all'interno praticamente isolato perché questo comune isolato c'è una frana nota da anni che si è aggravata naturalmente con le ultime piogge bloccando completamente la strada il sindaco di tavuglia convoca il consiglio nella frazione e chiama la provincia andiamo sulle pagine del corriere adriatico anche qui grande spazio al maltempo però focus anche sulle tasse siamo nel comune di pesaro non alziamo le tasse e spazio al sociale questa è la le parole del sindaco e dell'assessore del noci che presentano le previsioni per il 2015 strumento di sviluppo e più sostegno ai deboli queste le loro intenzioni almeno sulla carta falcini lascia marche nord e torna in romagna questo è il direttore amministrativo nominato dall'asus a pesaro sta lavorando al progetto unico per l'ospedale e ancora dalle pagine del corriere adriatico ve l'ho detto prima insomma la tragedia di urbino ha lasciato tutti sconcertati per la fatalità non scende dall'autobus per andare al lavoro e un ramo gli cade addosso e perde la vita oggi c'è l'addio di questa donna che ha lasciato nello sgomento sotto shock urbani appunto rita si chiamava a urbino le scuole sono ancora chiuse fano per quanto riguarda il corriere adriatico mette in evidenza la brillante operazione dei carabinieri che hanno scoperto e arrestato padre e figlio che hanno fatto prima sparire un furgone e poi hanno chiesto soldi per riconsegnarlo e quindi uno scacco al crimine vedete tutti i graduati della caserma di Fano e al comando provinciale di Pesaro durante la conferenza stampa nonostante il pagamento di 4 mila euro in mezzo non è mai stato restituito al legittimo proprietario è una pratica questa molto diffusa al sud poco denunciata da noi e quindi poco evidente e si chiama cavallo di ritorno questa è la terminologia tecnica di questa pratica estorsiva ancora nella pagina di Fano due crolli alla caserma Paolini vi dicevo il tempo è un po' alla conta dei danni su tutti i giornali e le raffiche diventano evidenziano la fragilità della struttura e l'assessore appunto abbiamo visto fa il bilancio dei danni emergenza maltempo e poi Alpino Bari ieri si è tenuto l'incontro pubblico con il CDA della RAI Roberto Fico che illustra la legge di riforma ha tante persone a sentirlo parlare poi stamina i dubbi sulla relazione parla è il nonno di Federico contestate modalità e conclusioni della commissione del senato e poi i brevi qui di spalla vi segnalo due cose l'otto marzo un otto marzo alternativo un modo alternativo per festeggiare per insomma celebrare questa ricorrenza anziché insomma la classica mimosa l'Africa Chiama dice aiutiamo le donne africane che durante il parto hanno mancanza di strutture e mancanza di personale medico e quindi con una donazione minima di 15 euro l'Africa Chiama dice si può festeggiare la donna in questo modo e poi una mostra molto bella il biciclete d'epoca oggi organizzata dall'associazione Forbici saranno una trentina di biciclette che vanno dal 1800 ai giorni nostri e questa mostra si tiene nella chiesa di San Michele le biciclette mezzo green per eccellenza insomma fonte anche di lavoro perché in passato erano anche biciclette che venivano usate per il lavoro il distributore di latte la rottino lo stagnare insomma sono belle testimonianze di quello che era il nostro passato lavorativo cambiamo testata il messaggero Ricci nessun aumento di tasse spese con il bilancio di previsione tagli e patto saltano ben 25 milioni di euro imprenditore sotto il ricatto dal suo operaio burrasca di vento presenta il conto e poi qui il meteorologo del messaggero dice finalmente una tregua e speriamo che duri abbastanza abbastanza tempo questa tregua Pax con Ceriscioli siamo la politica l'area Marcolini presenta le sue condizioni stretta di mano tra i due anche se questo era un incontro tenuto durante le primarie però insomma si rinfoderano i coltelli e ci mette lo zampino per far la Pax il segretario Comi e poi la bufera di vento presenta il conto ve lo abbiamo fatto vedere anche altre strutture come vedete hanno subito seri seri danni e quindi insomma è un po' la solita la solita litania dopo la bufera si vede che cosa è successo e quindi insomma si fa un po' il conto della spesa e i danni sono tanti tanti soldi tanti milioni di euro se ne stanno andando per il tempo schiacciata dall'albero oggi vi dicevamo l'addio i funerali della donna di Rita Buccarini il sindaco staremo vicino alla famiglia e a Urbino le scuole rimangono chiuse un'altra faccia del maltempo è questa che riguarda la zona della Sassonia di Fano fuga dalla Sassonia perché come dice Osvaldo Catarsi in questo articolo Fano vendesi è un fiorire di cartelli davanti alle abitazioni e alle attività commerciali che sono più esposte davanti al maltempo e hanno subito seri danni durante le mareggiate sempre più critica la situazione in zona mare il sindaco seri però ringrazia i volontari al lavoro non stop per fronteggiare questo anche nelle pagine del messaggero l'articolo che riguarda il tentativo di estorsione di questi due dipendenti della stessa ditta e quindi l'imprenditore edile finisce sotto il ricatto il capitano Falcucci vi dicevo appunto ci ha parlato di questo fenomeno il gergo è chiamato il cavallo di ritorno è noto nel meridione ma del tutto nuovo nel pesarese ultima pagina quella del messaggero che riguarda Fano andiamo incontro alle regionali lo abbiamo detto più volte quindi insomma si si annunciano le candidature regionali tre democrat reclamano un posto al sole in lizza tre consiglieri comunali Rosetta Fulvi Claudio Minardi e Federico Perini lunedì le consultazioni e poi vigili del fuoco in azione va a fuoco l'abilitazione di Gabriele Vitali momenti di paura per il presidente di Marotta Unita ma l'articolo principale del messaggero per quanto riguarda la pagina di Fano è questa niente volontari niente lavori volontari per i profughi al plaza scartata l'ipotesi si cerca l'integrazione con altri mezzi concorsi e sport per far sì che ci sia un'integrazione per questi profughi ospitati al plaza vi lascio con una buona notizia migliora la ragazzina che aveva bevuto la candeggina la ragazzina di 11 anni migliorano le sue condizioni bene questa era l'ultima notizia grazie per essere stati con noi occhio ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera vi ricordo naturalmente l'appuntamento con occhio alla notizia alle 20.30 e se volete riguardare tutti i filmati e tutti i video che vanno su Fano TV potete consultare il nostro portale occhioalanotizia.it grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti voi grazie a tutti